Ma che è? Ah vabbè, ok. Una nuova polla. Mi hanno fatto a forma di cellulare, poi è una macchina digitale, il videocassio. Sì, sì. Ma ho chiesto... Sì, ho lasciato il mio raccapito e poi mi telefonano l'ora se... Mi telefonano l'ora se... Ok, un abbraccio, ciao. Gli hanno pagato il biglietto della fiera. Gli pagano il biglietto e infine di fare il video. Gli regalano questo. Ecco voi Gabriele Dellotto Ti fa uno schizzetto. Io fai il giacchetto, poi. È il menino. Allora? Dov'è? È da posto? 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 Massimo Dall'Olio, desiderato con urgenza lo stampa Nini Comics. Massimo Dall'Olio, desiderato con urgenza lo stampa Nini Comics. E' altra micsela. È da posto? E' il giro pure verso il parco, sono tutti l'arrivo. Ci sta a fare un video? Ehi! Ma sai che segui le facce? Come segui le facce?